Che cos'è la legalità? Non è nulla che si debba in qualche modo proclamare, ma è qualcosa che deve nascere in modo naturale da parte di chi conduce la propria vita e il proprio lavoro con correttezza e nel rispetto delle regole ogni giorno. Oggi al Chaos Festival si celebra questo, lo si fa con un imprenditore coraggio, che ha avuto appunto il coraggio di denunciare il pizzo, Giuseppe Piraino e sono molto felice anche di portare in dote quella che è stata la mia esperienza con un documentario su Rosario Livatino, il giudice di Canicattì, Rosario Livatino, il coraggio e la tenacia. Un caro saluto agli ascoltatori di In Tre Minuti e grazie al Chaos Festival, il suo direttore Peppe Zambito, per l'invito. A presto! 21 settembre 1990, Sicilia, strada statale 640. Un magistrato senza scorta che ferma l'auto e tenta una via di fuga sulla Scarpata, oltre il guardrail. Sono gli ultimi e frenetici passi prima che due colpi di pistola uccidano Rosario Livatino. E' stato il primo che mi ha ricevuto da Grigento. Rosario condusse delle indagini che poi si rilevarono decisive. Ma chi era Rosario Livatino? Si era nascosto dietro una colonna per non farsi fotografare. Così. Lui era molto piccolino, aveva un viso molto bello, molto nitido, quasi impossibile capire quello che veramente aveva in testa. Colleghi e non hanno raccontato la sua vita, ricostruendone la sua personalità. Quando moriremo, non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili.